Chiaro che poi quando si guardano i santi giovani si rimane impressionati perché significa che questa grande intensità di vita d'amore è riuscita a essere espressa in una vita breve e in una vita intensa come quella dei giovani, senza avere il tempo della maturazione dei tempi lunghi, di tutto quello che il trascorrere dell'età portandoti alla maturità ti rende possibile anche di raccogliere, di distillare, di purificare e quindi come un'esplosione di forza, un'esplosione d'amore, un'esplosione di vita cristiana e questo guardando Pier Giorgio effettivamente balza fortemente la luce.